cari amici di vox italia tv benvenuti ad una nostra nuova intervista è venuto a trovarci edoardo silo slabini volto noto per tutti quelli che ci seguono mente brillante non conformista nel paludato panorama giornalistico italiano ciao edoardo ciao francesco un saluto a tutti voi di vox ti è piaciuta la presentazione edoardo ma invece ti è piaciuto quest'occhio che ho messo dietro eh sì ma io guarda me lo volevo me lo volevo giocare poi in corso d'opera ecco vedete che c'è l'occhio orwelliano che ci guarda amici siete pronti a passare con altre piattaforme telegram signal ci stiamo attrezzando edoardo perché il clima di censura è diventato davvero pesantissimo intanto però a te non ti possono censurare perché tu ancora fortunatamente utilizzi la vecchia carta e non possono distruggere le tipografie ecco qui facciamo vedere l'ultimo numero di cultura identità questo di gennaio dante 700 anni di vero rock cosa significa questa apertura edoardo spiegala a chi ci sente beh siamo nel si aprono le celebrazioni perché sono i 700 anni dalla morte di dante alighieri il poeta più grande l'italiano più grande più grande degli italiani come scrive marcello veneziani in un bellissimo editoriale e lui è il vero padre della patria la patria nasce con dante alighieri non nasce con mazzini con con garibaldi o con i savoia nasce con dante quindi non nasce con un condottiero ma nasce con un poeta questa è una cosa molto importante perché è una lezione anche all'oggi no questo questo momento in cui la cultura in italia è chiusa in cui non si non si valorizza quello che siamo veramente non la patria più bella del mondo allora la lezione dantesca è più che mai viva anche la lezione politica poi perché dante ebbe una grande visione politica non soltanto culturale non in italia soltanto dal punto di vista letterario inventando la lingua italiana ma anche con una visione politica ben precisa tu sai che i sacerdoti del politicamente corretto vorrebbero mettere la mascherina e il pure a dante lo so ma guarda non a caso a pagina a pagina 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 te lo dico del nostro numero a pagina 11 12 vediamo un po no dove sta a pagina forse ho sbagliato vediamo insomma c'è un immagine cerca la spoglialo con calma non tanto noi discutiamo voglialo con calma dedicata proprio a politicamente corretto perché dante nella questa nuova inquisizione del politicamente corretto questa furia iconoclasta che che è scoppiata in questi ultimi mesi l'hanno considerato islamofobo omofobo anti ebreo cioè gli hanno detto qualsiasi cosa senza considerare appunto il contesto in cui lui scriveva la divina commedia no ma comunque l'idiozia del politicamente corretto abbiamo visto ha raggiunto dei livelli ormai ineguagliabili quindi va combattuto e noi con cultura identità con questo giornale di carta hai fatto bene a dirlo prima la carta sentite come odora come invecchia come rimane come rimane questa rimane invece un tweet abbiamo visto il profilo di di donald trump 88 milioni di follower che con un click possono sparire invece la carta questa roba qua tra 100 anni rimarrà sulla scrivania di una casa questa è molto importante è una battaglia concettuale ma oggi è una battaglia di civiltà quindi non possiamo più essere considerati schiavi di questo grande occhio che ci segue che sa tutto di noi e con un click può cambiare e distruggere le nostre vite quindi la nostra battaglia è una battaglia culturale molto importante edoardo e il demonio di oggi è il politicamente corretto il demonio di oggi è politicamente corretto e sono anche i traditori della nostra patria che non a caso dante all'inferno li mette in questo nono cerchio c'è il canto 32 33 34 dell'inferno dove c'è lucifero incastrato nel nel lago di cocito ghiacciato che è il centro della terra che mangia dalle tre bocche le anime di brutto cassio e di giuda e sbattendo queste ali mentre mentre mangia famigliamente queste anime ghiaccia tutto ciò che è intorno e rimangono incastrati lì i traditori della patria della famiglia insomma è una delle immagini più più crude della della divina commedia e dante ci mette i traditori della patria di ieri come quelli della patria di oggi chissà quali sarebbero quelli della patria di oggi c'è c'è una sfilza basta insomma vedere i nomi sono questo governo insomma il governo dei traditori lo chiamerei questo governo senti gli ignavi chi sono chi metterebbe oggi tante nel genone degli ignavi se stanno tanti non facciamo i nomi abbiamo già detto comunque che c'è c'è una lunga fila dico di colleghi giornalisti qualcuno ignavolo di viene in mente i giornalisti ce ne stanno tanti ci sono dei giornali un giornale a caso che come dire diventato proprio il maggiore sponsor di questo governo lo sappiamo travaglio i suoi amici insomma hanno superato qualunque limite di decenza a mio avviso comunque guarda c'è una strana nemesi ora che lei nominato travaglio perché travaglio sta conte molto peggio di come fede stava berlusconi c'è un amore incondizionato cieco e acritico ma se non da dove nasce questo sentimento così profondo fra i due non lo so quello è tutto un circolo è tutta una lobby che è nata molto prima e poi a un certo punto doveva trovare un posizionamento culturale in quanto sono assolutamente assenti di cultura di 5 stelle un movimento che sappiamo come nasce 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 dopo la nave britagna dove beppe grillo come dire è presente insieme ai poteri forti della dell'industria europea italiana quindi insomma della finanza scusa quindi non lo so sai travaglio tutto quel livore gli nasce da secondo me da un fatto che lui voleva essere berlusconi berlusconismo anti berlusconismo sono sempre un rovescio della stessa medaglia quindi finalmente nei cinque stelle loro hanno come dire hanno trovato della gente che sta lì gli stendi tappeti perché sono privi sono privi di qualunque etica politica e culturale loro che sono i primi che accusavano gli altri appunto di onestà però lui magari direbbe io non sono l'editore anche il padrone del del partito almeno insomma noi distinguiamo i ruoli mentre da quella parte c'è un padrone che ha sia i mezzi finanziari che mediatici che politici però almeno c'è un padrone chiaro che dà lavoro a migliaia di persone che chiaramente dice questo è il partito azienda io ti pago tu porti avanti l'azienda dall'altra parte ci sono dei finti moralisti che sono i veri servi di alcuni poteri forti e occulti come questo occhio ok che non fanno gli interessi del paese capisci tu dici magari il diavolo non è così brutto come lo si dipinge senti edoardo poi dipende da quale dico ci sono anche i poveri diavoli ecco ci sono ci sono i diavoli veri e ci sono i poveri diavoli bisogna non è facile sempre distinguere senti edoardo cos'altro c'è di importante in questo numero di cultura identità tante cose belle tante cose belle vediamo lo sfoglio perché per me è sempre un piacere leggerlo c'è questo editoriale bellissimo appunto di marcello veneziani che vi invito a leggere il più italiano dei grandi il più grande degli italiani marcello ha scritto un bellissimo saggio che è uscito proprio in queste settimane nelle librerie che si chiama dante padre nostro è vero è oggi più che mai un faro del resto dante è stato poi veramente riconosciuto alla sua grandezza nell'ottocento dall'ottocento in poi ed è stato uno dei punti di riferimento poi del risorgimento italiano no perché tutti a tutti dicevano che era lui il vero inventore della patria e fa in questo suo intervento marcello dice una cosa molto importante dante fondò l'italia tramite la fusione tra identità e cultura tramite la lingua la visione geopolitica l'eredità dell'impero romano e l'impronta della civiltà cristiana allora una delle grandi battaglie di Dante Alighieri è il potere deve andare allo stato il potere dei cittadini il potere della civis mentre il potere del papato deve essere soltanto un potere spirituale e oggi è più che mai è più che mai di attualità perché abbiamo visto l'intervista di ieri a Bergoglio Bergoglio ormai parla di politica sembra un politico sembra un esponente del nostro governo del governo globalista non sembra il papa non si occupa di spiritualità entra a gamba tesa nelle vicende politiche di noi cittadini e quindi e quindi la lezione di Dante anche sotto questo profilo è più che mai più che mai attuale infatti fu scomunicato Dante ricordiamoci che visse un lungo esilio lontano dalla sua Firenze e in questo esilio con questa patria che lui immaginavano combattiamo per unirci basta con questi con queste piccole municipalità con queste prepotenze dei giudici mettiamoci tutti insieme per questa idea grande d'Italia e questa idea grande d'Italia che oggi non c'è più va assolutamente recuperato per questo Dante in questi 700 anni dalla sua morte è più vivo che mai ecco prendete e vaccinatevi tutti sembra essere il nuovo obbligo imposto dalla chiesa di Francesco tu hai citato bene l'intervista obiettivamente come dici tu non sembra un uomo che vuole salvare le anime ci sembra più interessato a garantirsi uno spazio di visibilità dentro la contingenza politica ma secondo te alla fine ci è o ci fa? ci fa a me il Papa Uitiva era un grande attore aveva fatto teatro aveva cominciato la sua carriera di attore il nostro Papa Uitiva tornasse Papa Uitiva lui lui no è uno che insomma tu da attore riconosci i trucchi del mestiere ma certo assolutamente è molto bravo Bergoglio però c'è queste uscite che sono più forti di lui ricordiamoci che tutta questa crisi pandemica mondiale inizia con quasi un'immagine dantesca che potrebbe essere un'immagine dell'inferno o del purgatorio il Papa che schiaffeggia quella cinese che quella asiatica che voleva gli voleva prendere la mano a San Pietro vi ricordate? da lì comincia poi tutta una cosa non sono connesse forse però è un'immagine metaforica allegorica dantesca che ci riporta in questo girone infernale che viviamo ormai da un anno senti Dante dove lo metterebbe secondo te Bergoglio? in quale girono? non in quello del gran rifiuto perché purtroppo lui non ha rifiutato ha rifiutato chi c'era prima di lui ecco che forse era un po' meglio secondo me è ancora presto per dire dove lo mette cioè dove verrà messo perché non è ancora finita insomma il pontificato di Bergoglio e questa fase è appena cominciata, questo nuovo reset mondiale è appena cominciato quindi chissà dove andremo a finire, chissà quale sarà ancora il ruolo di Papa Bergoglio e dei vari premier nazionali intanto in queste settimane abbiamo visto un accordo con la Cina dell'Unione Europea una cosa a mio avviso molto pericolosa perché qui chiudono le aziende e i cinesi sono pronti a comprare il nostro paese l'impressione Edoardo è che mentre il governo prosciuga le ricchezze degli italiani per il tramite di questi lockdown a singhiozzo, gialli, verdi, giallo canarino, giallo ocro insomma ci sono anche degli aspetti chiaramente paranoici in queste scelte Bergoglio dà l'impressione di prosciugare la spiritualità delle persone cioè da una parte ridicolizza il senso del sacro con queste uscite filo vaccino mentre gli altri prosciugano le tasche degli italiani cioè secondo te stanno lavorando in maniera simmetrica uno prosciuga le anime e l'altro i conti correnti Cioè, chi lo può dire? Ma l'impressione ce l'hai o ti pare azzardato come parallelino? L'impressione sì, non vuol dire essere complottisti però va di pari passo cioè le scelte di questo Papa vanno di pari passo con le scelte globaliste con le scelte di chiudere un account di un presidente americano reputato scomodo con le scelte economiche di alcuni paesi cioè è tutto un circuito è una compagnia di giro che la sinistra mondialista sa creare molto bene l'ha sempre creato il campo culturale occupando televisioni, giornali, media i social, i social ormai ufficiali li possiamo dire sono di sinistra sono della sinistra globalista quindi chi non la pensa come loro oggi nei grandi social viene messo da parte prima o poi verrà anche proprio esiliato da questa nuova identità digitale che purtroppo noi abbiamo Senti Edoardo, tu prima dicevi in America hanno taggitato il presidente Donald Trump avete trattato, avete una pagina esteri in questo numero? No, è sempre un numero monografico poi attraverso il racconto culturale del nostro paese poi possiamo fare dei paralleli con quello che succede comunque a livello internazionale ma cultura identità si occupa dell'identità della cultura italiana e dei propri territori voi state scorrendo adesso il giornale è l'unico giornale italiano che per ogni regione ha una pagina ha una pagina che racconta quello che succede gli eventi culturali, la storia di quel territorio e anche in questo mese raccontiamo le nostre città identitarie abbiamo lanciato questo progetto che sta facendo ormai aderire più di 50 comuni in tutta Italia perché l'Italia è quella appunto dei municipi, dei comuni quella appunto che ci raccontò, ci narrò Dante ma che ha una bellezza, una ricchezza storica e artistica che il mondo ci invidia quindi c'è Cervo Ligure c'è appunto Calalzo di Cadori c'è Concorrezzo ci sono tante città che stanno aderendo in ogni regione Soragna adesso si scorre ancora sempre in Emilia Romagna Castel San Giovanni dove resiste la cultura vedete noi andiamo a scoprire questi borghi italiani non li conosciamo nemmeno russi cioè siete un fortino di resistenza identitaria contro la globalizzazione che invece ci vuole tutti omologati ma questa partita è persa secondo te Edoardo ancora ci sono margini per reagire questa partita è difficilissima è Davide contro Colia ma bisogna anche lottare per un ideale se no che vita facciamo vogliamo passare la nostra vita davanti ai social a essere dei robot lobotomizzati noi diamo comunque un senso di lotta culturale e far spilare il proprio gonfalone oggi del proprio comune è un simbolo forte abbiamo bisogno anche di grandi simboli oggi quindi le città identitarie di cultura e identità stanno diventando sempre di più e vedrete che nel giro di un anno saranno più di 200 e faremo delle grandi manifestazioni faremo dei grandi festival per raccontare quello che siamo e per combattere almeno culturalmente questo mostro globalista senti Edoardo l'Unione Europea è sempre più diciamo una faccia feroce di questo schema sembrava dovesse franare qualche anno fa invece adesso è tornata purtroppo salda e prepotente pensi che questa Unione Europea oramai non si può più superare? è molto difficile la battaglia dipende molto anche dai governi nazionali però guardiamo quello che sta succedendo da noi cioè il paese sta fallendo e questi si stanno scannando per le poltroni questi indegni questi indegni però perché? perché Mattarella non ci manda a votare perché sanno benissimo che se si dovesse andare a votare il centrodestra vincerebbe con più del 50% quindi fanno in modo che tutti i governi che non sono allineati all'Unione Europea insomma ad alcuni poteri abbiano dei problemi Orban ben attaccato Trump abbiamo visto che fine fa in Italia non si vota in realtà in Italia dal 2011 governa la sinistra spesso senza aver vinto nemmeno le elezioni quindi ma tu ti fidi di questo centrodestra che comunque sembra culturalmente un pochino fragile cioè Salvini e Meloni sembrano due bravi ragazzotti però che abbiano la forza per fare muro contro questo sistema che insomma è pervasivo è violento è sadico è sapiente è luciferino cioè non vorrei che mandassimo due pierini a combattere il potere di questo tipo certo sono d'accordo su questo sono d'accordo che quello è un impero però non abbiamo alternative non è che ci sono alternative tu comunque gli devi dare la possibilità a questo centrodestra di provare a governare non l'hanno mai fatto negli ultimi dieci anni quindi quindi c'è poco da fare ragazzi cioè oggi non c'è da fare gli schizzignosi bisogna prendere quello che c'è bisogna fare in modo che noi possiamo tutelare le nostre libertà poi non sappiamo se loro riusciranno a fare questo ma almeno ci dobbiamo provare i 5 Stelle hanno fallito sono stati come dire il movimento che verrà incolpato per alto tradimento dello Stato italiano dei cittadini italiani sono stati un blef hanno preso in giro milioni e milioni di italiani che dovrebbero andare sotto casa di Beppe Grillo a protestare ci dovrebbero essere migliaia di persone sotto casa di Beppe Grillo quelli che l'hanno votato e che si sono fatti prendere in giro quindi insomma la situazione è complicata l'impero globalista è un impero mondiale fatto di economia oggi come dire gli stati ormai i governi anche degli stati stanno perdendo qualsiasi potere ci sono dei poteri sovranazionali dei poteri economici se non si passa per l'economia uno Stato non ha più nessun potere quindi quindi sì certo hai ragione pensiamo che col centrodestra si possano risolvere problemi non lo sappiamo almeno però i principi di certo centrodestra non sono quelli di questo governo giallo-fucsia chiamiamolo come vogliamo che è veramente nemico del popolo italiano ecco noi sai che puntiamo invece ad un cambiamento paradigmatico di sistema con Vox cioè per superare questa dicotomia che ci sembra comunque insufficiente per usare un eufemismo però vogliamo Vox è una battaglia sacrosanta però ragazzi non è che possiamo andare a combattere con le scarpe di cartone contro i carri armati cioè bisogna prima strutturarsi quindi bisogna anche essere un po' realistici e la realpolitik vuol dire capire quali sono i propri limiti dove si può arrivare e a quel punto cercare anche dei piccoli accordi con il nemico e essere una sorta di cavallo di troia altrimenti dove si va a parare però sai cosa penso Edoardo che prima che a pensare ad eventuali tatticismi alleanze bisogna preparare il terreno sul piano culturale cioè bisogna fare in modo che molte persone maturino e sviluppino una capacità di analizzare in maniera seria ciò che accade non su base suggestiva tu ce l'hai giustamente tanto con con Grillo e i 5 Stelle perché hanno manipolato milioni di persone legandole intorno a dei miti fasulli il baffa dei il tutti i ladri tutti i misericordi morti al PD morti al Pdl cioè hanno aizzato la gente intorno a dei sentimenti negativi noi invece potremmo e vorremmo fare una cosa diversa cioè unire le persone intorno alla capacità di sposare un'idea di uomo e di società ecco questo si può fare prima sul piano culturale che è politico sei d'accordo? ma assolutamente ma infatti noi in piccolo sia noi di cultura identità che voi di vox lo facciamo ci sono delle realtà libere come le nostre che fanno una battaglia culturale io ho messo da parte la mia carriera di artista dopo 25 anni per fare per aggregare questa Italia e questi intellettuali che se no rimanevano sempre ognuno per conto proprio ma non è una battaglia semplice ed è un primo passo è un primo passo e per questo io dico a chi ci sta ascoltando aiutate questa nostra battaglia di libertà abbonatevi a cultura identità a vox seguiteci aiutateci siamo l'ultimo baluardo di libertà ma un impianto culturale di quello che può essere poi un paese del futuro appunto va costruito nei decenni Dante Alighieri l'ha messo in piedi all'inizio del 1300 e quell'Italia lì si è realizzata forse poi 700 anni 600 anni dopo 500 anni dopo insomma chi sono secondo te oggi i pensatori gli intellettuali che possono offrire un cambio di paradigma cioè chi sono i pensatori con la voce più forte più autorevole nel panorama italiano guarda ci sono molte firme che noi abbiamo aggregato con cultura identità che poi sono anche le vostre firme perché appunto Diego Fusaro e professor Meluzzi Marcello Veneziani Angelo Crespi Antonello Cresti ci sono tanti Brullo c'è tutto un mondo un mondo eretico lo stesso Sgarbi comunque nel comunque nelle nelle sue follie Vittorio è uno che comunque porta avanti delle battaglie sacrosanti quindi ci sono e poi c'è anche una scheda di giovani nuovi che non sono famosi che però possono laddove hanno una casa far sentire la propria voce e indirizzare le menti libere il problema è questo che il sistema mediatico che è ormai un sistema digitale social è in mano a questo mondo qui e quindi sarà sempre più difficile comunicare dovremo fare come Dante che organizzò questa setta segreta i fedeli d'amore l'amore verso una donna in realtà era l'amore verso questa idea di patria che piano piano si sarebbe dovuta formare stiamo purtroppo ci stiamo avvicinando a questi periodi bui gli esseri intellettuali liberi come noi dovranno comunicare quasi in un modo carbonaro ecco chi è la Beatrice dei giorni nostri spero che tu non dirai la Lorenzini no la Beatrice dei giorni nostri è la nostra patria l'Italia è una donna è una femmina straordinaria è una donna da difendere se vedete c'è un proprio noi la dipingiamo c'è questo questo bellissimo dipinto di Luca Vernizzi c'è un'Italia nuda non so se lo se lo potete mandare vai vai che siamo oltre la fascia protetta noi vedi questa bella Italia nuda che ormai è nuda che gli è rimasta soltanto questa bandiera questo tricolore con cui coprirsi che è un bel simbolo tra l'altro i colori della nostra bandiera sono proprio indicati nel canto trentesimo del purgatorio da Dante quindi senti Edoardo quel grande occhio che hai dietro che tu ti domina di fatto è il sistema mediatico cioè sono i padroni dei grandi network televisivi quel grande occhio che hai dietro certo è l'occhio orwelliano addirittura su alcuni social la stag 1984 è stato tolto lo sapete no? è una cosa incredibile su alcuni social è stato tolto l'hashtag 1984 perché stiamo superando orwell quindi questa oggi è una battaglia di libertà e invito a salire su questo carro delle libertà chiunque ormai non esiste più destra e sinistra c'è un'elite e c'è un popolo il popolo poi ha bisogno dei mezzi che sono i mezzi culturali ma poi per come dire ha bisogno della ribellione perché soltanto la cultura non basta però intanto noi da uomini di teatro di cultura dal mondo editoriale possiamo dare il nostro apporto che è importante cosa che dal dopoguerra in poi sappiamo almeno in Italia come è passata nelle mani di un partito che poi si è venduto il partito comunista senti tu prima dicevi Edoardo di noi uomini di teatro uomini di cultura hai visto che hanno praticamente insomma colpito tutto un intero settore i teatri non lavorano più gli attori sono alla fame insomma è una situazione davvero di grande tristezza pensano davvero che non nutrire l'anima cioè che nutrire l'anima della gente sia una cosa superflua da archiviare è noto poi con un certo dispiacere una certa preoccupazione come crescono queste giovani generazioni che da due anni ormai non fanno scuola cioè secondo te queste due cose cioè la fine della cultura del teatro come strumento che cura l'anima delle persone è il colpire intere generazioni che sono ripiegate a casa e non vivono i loro anni come li abbiamo vissuti noi tu immagina se noi due non avessimo fatto terza media e primo liceo cosa saremmo oggi cioè tu pensi che queste generazioni porteranno delle cicatrici per sempre e che la fine di questa progettualità culturale se mai c'è stata li renderà ancora più aridi io sono molto preoccupato per i nostri figli ho una figlia di nove anni quindi sono una generazione sì che rischia appunto di vivere un vuoto pneumatico che poi si riporterà dopo le conseguenze si vedranno dopo più che altro perché sono ragazzi che non si sanno più ribellare abbiamo visto questi giorni questo fenomeno delle risse che fanno tra ragazzi che si danno appuntamento in alcune piazze è successo a Parma è successo pure qui ieri Edoardo qui mentre parliamo dove stiamo noi allora lo capisci lo capisci che poi c'è questa implosione questa deflagrazione su se stessi che questo tipo di sistema ci sta portando non ci sono più valvole di sfogo però lo sfogo non c'è nemmeno verso la protesta in Italia non si protesta allora vanno e litigano per appunto per una stronzata perché si danno appuntamento sui social perché devono sfogarsi oppure oppure hanno tolto anche lo sfogo dello stadio che era uno sfogo che comunque secondo me era sono energie sprecate allora qui c'è un secondo me un piano preciso perché nemmeno durante il tempo della guerra cinema teatri erano chiusi cinema teatri musei chiusi non c'è più sfogo i nostri ragazzi che cosa fanno quando poi tu chiudi anche le palestre chiudi il corpo e chiudi la mente delle persone capisci bene che trasformi così il cittadino in un lobotomizzato in un replicante che con la paghetta del reddito universale o reddito di cittadinanza sarà buono e tranquillo e quindi capisci che proprio il comunismo il regime comunista maoista che si sta che sta ormai chiudendo accordi economici e finanziari con questo mondo globalista che da noi è rappresentato dall'Unione Europea è proprio il connubio perfetto per renderci tutti quanti schiavi intanto vanno abbattuti loro non so in quale modo però intanto vanno abbattuti i governi che sono appunto che aderiscono a questo progetto di distruzione dell'identità dei popoli guarda è proprio vero che questo globalismo ha riuscito nel realizzare un sincretismo malefico assorbendo tutto il peggio delle dottrine politiche novecentesche di qualsiasi diciamo hanno assorbito tutto il peggio la violenza degli uni la mancanza di spiritualità degli altri il desiderio di avidità elevato a potenza del liberalismo insomma sono riusciti ad assorbire di ogni di ogni dottrina politica il peggio grazie Edoardo è stato un piacere come al solito averti con noi facciamo rivedere in conclusione il nuovo numero di cultura e identità Dante 700 anni di Vero Rock cultura e identità diretto e fondato dall'amico intellettuale Edoardo Silo Salabini grazie ancora grazie a tutti bene cari amici di Vox Italia TV si conclude qui un nostro nuovo approfondimento noi fino a che avremo voce cercheremo di discutere senza filtri senza mai arrenderci di fronte alla violenza dissimulata del politicamente corretto che oggi per davvero il manganello immateriale più pericoloso è quello che fa più danni possiamo farla possiamo combattere perché non abbiamo padroni non abbiamo editori non abbiamo chi ci può dire quello che è possibile argomentare e quello che invece non bisogna dire né pensare perché i nostri unici editori siete voi rimarremo liberi fino a quando ci aiuterete tramite Bonifico tramite Paypal ai numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione vi comunico che stiamo appena partiti con il nostro sito andatela a vedere www.voxitaliatv.com ci attrezziamo nel caso in cui YouTube dopo averci demonetizzato volesse perfino censurarci completamente www.voxitaliatv.com è una testata registrata per quello che valgono ancora per quello che vale lo spirito della Costituzione nessuno in teoria potrebbe condannarci al silenzio sulla base diciamo di un pensiero e di una decisione completamente arbitraria grazie a tutti voi alla prossima grazie a tutti